Stadio Olimpico di Roma, oggi la giornata mondiale dedicata ai bambini, sono decine di migliaia quelli che sono accorsi da tutto il mondo qui per incontrare Papa Francesco, attesissimo da tutti, grida di pace, voglia di pace, momenti bellissimi con tanti piccoli che non fanno altro che manifestare la voglia di stare tutti insieme lanciando un messaggio di speranza. Stadio Olimpico Stadio Olimpico di Roma Stadio Olimpico di Roma Maestra avete portato questi bambini qui perché oggi è una giornata speciale? Assolutamente sì, c'è l'incontro con Papa Francesco, i bambini ci taggono tantissimo, lo volevano vedere a tutti i costi perché noi a Papa Francesco li vogliamo bene! Messaggio di pace, messaggio di amore di libertà! Assolutamente sì, c'è l'incontro con i bambini che si è arrivato per incontrare Papa Francesco! Assolutamente un gruppo di quasi 90 persone, siamo felici di essere qui, arriviamo dalla Puglia da Bari con dei ragazzi e bambini dei centri diurni socioeducativi del nostro territorio! Quanto è importante per voi e per i bambini essere qui e incontrare Papa Francesco? È bellissimo, è sicuramente un gran momento di festa ma anche un momento di riflessione per quello che accade nel resto del mondo e quindi siamo qui anche per testimoniare e per desiderare tanto la pace! Ecco, un messaggio di pace che il Santo Padre ricorda sempre e che dovrebbe arrivare anche alle nostre istituzioni! Sì, sicuramente sì e speriamo insomma di essere anche esempio per loro!